Una casa di riposo di gel è stata chiusa dai carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa in quanto avrebbe esercitato abusivamente la propria attività, vista l'assenza dell'iscrizione nell'apposito albo comunale, oltre alla mancanza dell'autorizzazione all'apertura e della mancata registrazione della cucina per la preparazione dei pasti. Questo l'esito di un controllo che i militari dell'arma hanno eseguito nell'ambito dell'attività ribattezzata Estate Tranquilla 2022, nel corso della quale i carabinieri del NAS di Ragusa hanno effettuato 176 ispezioni in tutta la Sicilia, accertando irregolarità in 67 strutture, circa il 30% degli obiettivi controllati, a seguito delle quali sono stati segnalati alla magistratura e anche alle autorità sanitarie 62 operatori del settore e contestate oltre 140 sanzioni per un valore complessivo di oltre 132.414 euro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate anche 199 tonnellate di alimenti non idonei al consumo, eseguiti provvedimenti di chiusura e sospensione imprese di 21 attività commerciali irregolari. L'attenzione del NAS si è orientata anche verso i servizi di continuità assistenziale, quali ad esempio le guardie mediche, eppure centri estetici, palestre, centri benessere e termali.